21esima domenica del tempo ordinario e anche oggi torna a farci compagnia padre Ernesto della Corte, il nostro biblista. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana, ma anche a voi. Allora, vestito come la Madonna alle tue spalle, di rosso e di blu, segno di divinità e umanità. Sì, domenica scorsa e anche oggi ho voluto mettere dietro di me la famosa Madonna del Pilerio, che è conservata nella cattedrale di Cosenza, bizantina. Lei è rivestita sotto al rosso che è l'umanità, rivestita di divinità che è il celeste. Se io ho fatto al contrario, così facciamo da pendante. Lo Spirito Santo mi deve rivestire perché io possa davvero portarvi a quel celeste che indica la divinità. Perché le scritture sono lo scrigno di Dio, il tabernacolo della parola. Quindi dobbiamo ricordarcelo. Poi tra l'altro oggi, dopo l'episodio dei Lebrosi, caro Anna Maria, oggi c'è qualcosa di importante. Siamo nel capitolo 18, che riprende di qualche settimana fa le parabole sulla preghiera. L'abbiamo trovata al capitolo 11, molte settimane fa. Perché il Signore torna spesso sulla necessità, dice così il testo oggi, sulla necessità di pregare sempre, senza mai scoraggiarsi. Quindi non dobbiamo mai scoraggiarci quando preghiamo. Questo verbo, quest'ultimo verbo, scoraggiarsi, assume anche il senso di comportarsi male. Che vuol dire Gesù? Non dovete mai abbandonare la fede. Dobbiamo essere come quell'ebroso samaritano di domenica scorsa. Noi non dobbiamo sconfortarci per le difficoltà che inevitabilmente arrivano e che noi dobbiamo attraversare. Gesù ci chiede proprio in Lucca, agonizzeste, lottate sempre, perseverando nella fede, per non cadere in quella prova, nella tentazione, come diciamo nel Padre. Non farci cadere nella tentazione. Gesù vuole educarci ed educare il discepolo a una preghiera che sia perseverante. Ecco perché il capitolo 18 riprende quella famosa parabola che abbiamo spiegato nel capitolo 11, i versetti 5 e 8. Noi la chiamammo non tanto l'amico inopportuno, ma quell'amico che arriva all'improvviso e ti mette in condizioni di andare a chiedere un piacere a un'altra persona pur svegliandola. Così, dice Gesù, vi dico che anche se non si alzerà per amicizia, si alzerà almeno per la sua insistenza. E noi dicemmo che l'insistenza è figlia della relazione. Torniamo al discorso di domenica scorsa. Quando c'è una relazione, tu a chi vai a scocciare a quell'ora così tarda? A un amico. Quindi la preghiera deve essere fatta in modo assiduo, in ogni momento e in ogni necessità. L'avverbio qui, in greco, pantote, è utilizzato per tutte e due i significati, in ogni momento e per qualsiasi necessità. Perché la perseveranza nella preghiera non è come pensa la gente in genere, questa insistenza nella domanda. No, no, la perseveranza nella preghiera è la fermezza nel fidarsi di Dio. Quindi essere fermi, saldi, fondati in Cristo, direbbe il nostro Paolo. Perché la preghiera tiene i nostri occhi aperti sulla realtà del regno. Una realtà da accogliere. E questa attesa ci aiuta a pregare sempre. Quindi è importante proprio il pregare in sé, senza aspettarsi qualunque tipo di esaudimento. Cioè è il pregare in sé che è il dono più grande. Perché pregare, tu lo dicevi al termine della trasmissione di domenica scorsa, è entrare in continua relazione col Signore. Esattamente quello che dicevi anche tu, domenica. Quindi il presente che noi viviamo, già qui, già ora, prepara quel futuro da sperare. E sperare per noi cristiani è certezza che arriva quel futuro. Per cui la preghiera non esclude l'azione, anzi la prepara. Vediamo Maria, vediamo Marta, le due sorelle. Diventa il desiderio del Signore e della sua volontà, come ha pregato Maria di Nazareth. Eccomi, sono la serva del Signore, desidero che avvenga per me secondo la tua parola. Ecco perché la parabola di oggi, una parabola molto strana, perché Gesù prende come personaggio un giudice iniquo. Dall'altra parte c'è il personaggio della vedova, che noi chiamiamo importuna. E dobbiamo dire che all'inizio, la cornice del versetto 1 e la conclusione, c'è una progressione nel tema della fede. Gesù collega oggi la preghiera alla fede. E argomenta però in un modo paradossale. Cioè va oltre la logica umana. Perché, vi dicevo, porta al centro un personaggio che è un giudice malvagio. È un giudice che non teme Dio e non teme gli uomini. Una persona cattiva, per giunta corrotta. Luca lo dice, non temeva Dio e non rispettava nessun uomo. Che cosa strana. Gesù prende come esempio una persona del genere. Ma come mai? Se si legge la parabola con attenzione, ci si accorge che la parabola sottolinea non tanto la perseveranza della preghiera, ma il comportamento del giudice. Cioè la prontezza di Dio nel far giustizia ai suoi retti. Se un giudice corrotto decide di fare giustizia a quella vedova ed è un corrotto, a maggior ragione Dio. Dio farà giustizia ai suoi retti. Per cui la figura principale, come pensa la gente, non è la vedova che bussa, ma il giudice che accetta di fare le giustizie. Quindi il punto centrale della parabola è la certezza dell'esaudimento. Ora dice Gesù, ecco il ragionamento per assurdo, se un uomo cattivo, corrotto, come quel giudice, che non teme né Dio e nemmeno degli uomini, alla fine si lascia indurre a fare giustizia dalla preghiera di questa povera vedova, quanto più Dio esaudisce le implorazioni dei suoi figli. Per cui il giudice Enrico non cede certamente per rispetto alla giustizia, ma nel suo disprezzo vuole solo egoisticamente liberarsi della vedova, che è un po' impertidente e diciamolo pure anche un po' fastidiosa. Ora, se si legge la parabola in questo senso, si comprende che Gesù ha scelto questo personaggio senza coscienza, insensibile. E non è strano, perché Gesù spesso sceglie questi personaggi nel Terzo Vangelo. Serve per dare forza al confronto. Quasi che Gesù dica, se persino un giudice si è fatto, un corrotto, un uomo che non guarda in faccia a nessuno, è stato indotto a fare giustizia, quanto più Dio che vi è padre, quanto più Dio che pensa ai suoi eretti. E la domanda della vedova, la categoria debole come gli orfani, i poveri, è la domanda che fa l'umanità più povera. Fammi giustizia, quanto è forte quel verbo, fammi giustizia, quella sede di giustizia che attraversa tutta la narrazione, ma anche tutta la Bibbia. Cioè questa insistenza della povera vedova che è l'insistenza di una umanità. Se Dio è giusto, questa è la domanda che spesso viene, per quale ragione sembra che l'ingiustizia trionfa nel mondo? E mentre il giudice per un certo tempo non ha voluto, poi se ne libera della vedova, anche se non temo Dio e non rispetto nessun uomo, date che questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia perché non venga più a tormentarmi. Allora Gesù ribadisce, se un giudice così ha deciso di fare giustizia alla vedova, ma non vi sembra che quanto più Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte, forse che induggerà nei loro confronti? Assolutamente no. Certo, Dio non è come quel giudice, anzi, lui ha la giustizia. Cristo vuole farci capire, cioè, che noi dobbiamo essere perseveranti nell'attesa. La preghiera è figlia della confidenza, della relazione. Quindi quando preghiamo, noi sappiamo, dice Teresa Davide, che preghiamo il padre. Chi ci ascolta è il padre e dunque non dobbiamo dubitare. Ecco allora che la parabola ci esorta a continuare a pregare con insistenza, con fiducia, perché dall'altra parte chi ci ascolta è il padre, la madre. E l'intervento di Dio è certo, quindi non soltanto è certo, ma, dice Gesù, vi dico che farà loro giustizia prontamente. Usa questo aggettivo, pronto. Gesù vuole quasi, come dire, farci capire che non dobbiamo dubitare di questa prontezza di Dio. Poi alla fine della parabola potrebbe finire così, come al solito, Gesù ci meraviglia, ci sorprende, perché ci interpella con un ultimo interrogativo. Voi che fate questione sulla giustizia che Dio vi deve accordare, io vi sto dicendo che lo farà subito, ma quando io tornerò il figlio dell'uomo, sulla terra, troverà la fede? Quindi non dobbiamo temere Dio, ma il vero problema non è se Dio ci esaudisce o meno, il vero problema è, ma la nostra fede cresce o no? Nei momenti più difficili, quando sembra che tutto crolli, la nostra fede si rafforza o crolla? Noi che mettiamo in discussione Dio, pretendiamo di mettere in discussione Dio e vogliamo stravolgere la logica divina, a un certo punto dovremmo interrogarci. Ma noi stiamo mantenendo salda la fede? Potremmo, come Paolo, dire, la seconda a Timotio, ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede? Io, amiche e amici cari, vi dico che questo versetto ce l'ho proprio nel cuore, chiedo sempre al Signore, porta a termine il ministero che Tu mi hai dato, la corsa che mi stai facendo fare, soprattutto fammi conservare la fede. E conservare non è mettere in un ripostiglio, in una cassaforte, si conserva la fede nella misura in cui la si osserva, la si vive. Quella fede è quella relazione che giorno per giorno ci spinge. La carità di Cristo, caritas Christi, urget nos, dice Paolo, l'amore di Cristo ci spinge. Ed è questa la nostra convinzione più forte. E possiamo dire con forza che la parola di oggi è la fede, appunto. La fede, sì, credere. Il figlio dell'uomo troverà fede? È una domanda che mette molto in discussione. Sì, e fa riflettere. In questo mese di ottobre che stiamo vivendo insieme, ci si impegna anche a pregare e a ricordare tutti i missionari e le missionarie del mondo, sparse nel mondo. Noi parlavamo anche di preghiera prima. Non ci vuole certamente coraggio anche in questo, ma ci vuole fede. La chiesa è extravertita. O la chiesa è missionaria o non è chiesa. E date che la chiesa siamo tutti quanti noi, questo popolo, noi stiamo pregando perché ognuno di noi sia missionario della parola di Cristo, soprattutto con la vita e poi anche con la parola. Quindi è veramente interessante questa notazione che tu fai. Richiamiamolo alle nostre amiche e ai nostri amici. Grazie padre Ernesto anche per oggi, sempre preziosissimo. Potremmo chiudere con questo salmo di oggi, il salmo 120, che dice tuo custode è Dio, il Signore, al tuo fianco è scudo e ombra. E vorrei anche anticipare ai nostri amici che fra qualche mese tutti questi commenti che noi diamo, che tanta gente ci ha scritto, mi chiedono quando faccio la lezione, ma tutti questi commenti perché non li hai scritti? Ebbè, sono dieci anni che io li ho raccolti, fra qualche mese usciranno tutti insieme, così che ognuno di noi possa poi riattingere in un modo ancora più, come dire, più totale e più completo a questi testi biblici e riflettere anche sulla bellezza di questa parola che ogni domenica spinge innanzitutto noi, cara Anna Maria, e poi spinge spero le amiche e gli amici che ci ascoltano. E questa è anche una bella notizia, poi ne daremo voce più in là nel momento in cui è pronto tutto questo. Anche questo è un modo molto bello per esprimere la fede, Padre Ernesto, grazie anche per questo. Certamente, io credo molto a questo servizio che fa Tele Padre Pio, TV 2000, tutte le nostre televisioni cattoliche, perché sono i nuovi amboni, la sede dove la parola può risaltare. È un servizio, lo facciamo anche qui in parrocchia da noi, abbiamo una televisione a circuito cittadino, perché la gente, gli ammalati, i poveri, quelli che stanno in casa, forse non possono essere raggiunti in altro modo, possono ascoltare attraverso questo servizio la parola del Signore. L'importante, direbbe Luca negli atti, è che la parola corra, che la parola raggiunga le persone e che, come dice San Francesco, la parola nel cuore porta il cuore a Dio. È l'augurio che oggi facciamo alle nostre amiche e ai nostri amici. Vero, nuovi amboni e nuove agorà. Grazie, buona Pasqua della settimana. Shalom. Buona Pasqua della settimana a voi. Shalom. Shalom. Buona Pasqua della settimana a voi.